ciao a tutti un po di tempo fa sul mio canale ho postato il video come si lavora appunto waffle e uncinetto in questo da allora io ho avuto tante richieste con le domande come si potrebbe lavorare questo punto in tondo purtroppo solo oggi che sono riuscita a farlo allora in questo video e facciamo questo punto waffle lavorato in tondo se siete interessate e rimanete con me che per lavorare il punto waffle in tondo numero di mali devono essere multipli a 3 quindi per questo campione io ho avviato 48 catenelle e le chiuse in cerchio e faccio così 3 catenelle 1 2 e 3 e in ogni catenella sottostante io faccio 47 mali alti ok una maglia alta e così le faccio 47 ho terminato il giro ho fatto 47 mali alte e entro finisco il giro entrando nella terza catenella dell'inizio 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 del giro e faccio una maglia bassissima possiamo iniziare il secondo giro quindi faccio 3 catenelle 1 seconda e terza che adesso sopra la prossima male alta io faccio una maglia alta a rilievo a rovescio quindi getto il filo entro da dentro avvolgo questa maglia esco da dietro aggancio il filo e faccio la maglia alta e fatto sopra la seconda maglia alta faccio lo stesso lavoro getto il filo entro da dietro avvolgo esco da dietro aggancio il filo tiro e faccio una maglia alta e fatto quindi abbiamo fatto due mali alte a rilievo a rovescio sopra la terza maglia alta io faccio normalmente una maglia alta è fatto e così dobbiamo alternare due mali alti a rilievo a rovescio e sopra la terza maglia alta facciamo mali alta quindi vi faccio vedere ancora getto il filo faccio una maglia alta a rilievo a rovescio una fatto e 2 è fatto e sopra la terza maglia ma faccio una maglia alta normale e così andiamo avanti alla fine del nostro giro alternando tutti questi mali due a rovescio e una maglia alta normale io sono arrivata alla fine del giro se abbiamo fatto tutto giusto facciamo ultime due mali a rovescio 1 e 2 e 2 e per finire giro adesso io incontro questi 3 catenelle dell'inizio del giro e per finire il giro io entro da rovescio sotto e tiro con una maglia bassissima e così abbiamo fatto il primo giro secondo giro e possiamo iniziare a fare il terzo giro faccio 3 catenelle 1 2 e 3 sopra queste due maglie che in giro precedente erano le mali a rovescio io faccio due mali alte 1 e 2 sopra questa maglia che nel giro precedente era una maglia alta normale io faccio una maglia alta a rilievo a rilievo a dritto quindi entro da dritto esco da dritto tiro il filo e faccio normalmente mali alta e così vado alternare qui faccio due mali a dritto due mali alte normale e qui faccio una maglia alta a rilievo a dritto faccio vedere ancora questo elemento quindi entro qui faccio una maglia alta una e due e sopra maglia alta qui faccio una maglia a dritto a rilievo e così vado alternare sono arrivata alla fine del giro quindi faccio ultime due mali alte una e due e adesso devo chiudere il giro quindi incontro questi 3 catenelle dell'inizio del giro e entro qui nella terza catenella e tiro e faccio una maglia bassissima ok ed allora e poi dobbiamo alternare secondo e terzo giro quindi faccio 3 catenelle 1 2 3 2 mali alte a rilievo a rovescio 2 fatto è una maglia alta normale che e così andiamo avanti a lavorare quando arriviamo alla fine del giro ricordiamo che nel secondo giro noi abbiamo chiuso entrando così e nel terzo giro entriamo a chiudere dentro la terza catenella ed allora e poi comincia a formarsi il nostro punto waffle sono andato un po avanti con lavoro campione si presenta in questa maniera così da tutte le parti si forma il nostro punto waffle spero che questo video vi è piaciuto ci vediamo prestissimo ciao 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 ciao